non ho fatto una volta le zambe la zamba non viene bene vabbè io il fulmino voglio farlo non posso andare lì io non capito guarda come si vede bene e senti devono essere ciechi per non vederla devono essere proprio ciechi e al sole è più chiaro no vedi tutto il sole vedi il disegno proprio insomma quello lì invece l'agenzia a me ha fatto delle foto che fanno veramente schifo ma si ma se lo vede bene e ora al compiuto le vede meglio perché le vede grosse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti